Nella settimana appena conclusa si è registrato un aumento del numero dei nuovi positivi con un tasso di incremento però inferiore al 10% contro il più 140,6% della settimana precedente, accompagnato da un forte aumento del numero delle persone ricoverate, dei nuovi ingressi in terapia intensiva e dei decessi. Lo rileva l'ufficio Statistica del Comune di Palermo comunicando i dati sull'emergenza Covid in Sicilia. Nel dettaglio i nuovi positivi in Sicilia sono 73.163, il 9,3% in più rispetto alla settimana precedente, più di due volte e mezzo il numero registrato 14 giorni fa. È rimasto sostanzialmente stabile il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati passato dal 20,2 al 20,4%. Il numero degli attuali positivi è aumentato del 55,4% passando da 111.777 a 173.689, oltre 60.000 in più rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 1.516 di cui 168 in terapia intensiva. Rispetto agli ultimi sette giorni sono aumentati di 255 unità. Complessivamente a rianimazione si sono registrati 120 nuovi ingressi, ovvero il 48,1% in più rispetto agli 81 della settimana precedente, mentre il numero dei guariti è cresciuto di 11.127 unità rispetto agli ultimi sette giorni. I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,9% degli attuali positivi. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 65,3%. Il numero di persone decedute è registrato nella settimana di 233,78 in più rispetto a quella precedente. Complessivamente le vittime in Sicilia sono 7.915, il tasso di letalità è pari all'1,5%.